Musica Bentornati in questo nuovo video Oggi proveremo con quasi tutti i rolling Un nuovo format Che poi il format non è, è solo una nuova modalità di gioco Sara manda un po' differente Prendendo spunto dal famoso programma TV Organizzeremo qui uno Speed Quiz Però il sottoscritto ha preparato delle domande tutte a terra Giochi da tavolo, giochi di ruolo, serie tv, videogiochi, serie anime È facile Accendoci a un campanello Io vi faccio una domanda a testa, differente Mi date tre risposte e premere il campanello Ricordati, dà le tre risposte e premere il campanello Io le domande ci sono scritte qui Primi due sfidanti Prego 92 Non so, non mi ti fai chiamato Luca Ah, uno Top play Luca top play, l'avevo ci provare a contare Precocca Dimmi tre Dragon Ball ZGT Budokai GT non è Dragon Ball Ma è giusto Dimmi tre cioti di a tavolo Cacasson Bicchierini sprint Sushi dice Stai agitato? Stai agitato? Troppo agitato Dimmi tre attori maschi Maschi Tre attori maschi? Sì Io Io, Gianluca e Saulo Io dico che è eliminato Però è eliminato Non siamo attori Attori Beh, su di me non c'era nessuno Eh, però gli altri Non c'era il cazzo Io, attore È eliminato Dai, non siamo attori Ehm Ben messi Ma non è nessuno di piedi Ma non c'era le risposte Sai io Dovevi rispondere giusto Allora Scusa Dimmi tre videogiochi The Last of Us Dragon Ball ZF E War Tre Due Ur Tutti vuoi Vabbè Dimmi tre esclusive Sony Perché ti sei imbazzito? Tenta ogni tanto C'è stata una difficile Tre esclusive Sony? Penso che è andato Cinque secondi Li sa più lui Di vedere le esclusive Sony Ma che domanda di testa mi fai? Guarda Troppai Ecco Vabbè Tornale di Lorenza Dottorio Dottorio Angolo La sto passi Dimmi tre razze di D&D Ehm Umani Effi E nani Efe 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 Finisci un gioco da tavolo E vinci Fai tre facce da vincitore Vabbè ci sta Ti vedo preparata con il gioco di ruolo Quindi dimmi tre strumenti da bardo La chitarra La ghironda E il violino E se te breve Tre serie anime Altra con Thailand World Art Online è solita Dimmi anche tre serie anime Ehm Naruto Ehm One Piece Ehm Cinque Dungo Ehm 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 No dai 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 Dopo li ti schiavo Siamo chiamati Chi ci manca E vabbè ma Imita Tre Renanici Ehm Ehm Ho 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 Mi fa veloce Chi è vero vuole Kim Lee Gli lo passa E' bello E' bello E' difficile Ehm Mi c'è pure una faccia E' bella l'inversazione. Dimitra esclusiva Nintendo. Zelda, Mario e Kiki. Fammi tre gesti di Rock'n'Ball. Grande! Eh, quattro e la fatti! Dimitra i giochi brutti. Quelli che vuoi. Ti giochi da tavolo? Tu ti vuoi i buoni giochi, non dò specificato. Allora... Eh, lo ditevi sicuramente! Eh, la... Della sua base, Ringo... Sì! Della sua base, sono noi! Provo della verità su quello che ha detto. Sei sicuro, la verità! Ha detto da sto mazzo. Sono facile le domande, però c'è bello di grippa. Mi elimino da solo. No, mi elimino da solo. Quindi, ma... Dimmi, tre serie tv. Eh, Lucifer, Sabrina e... Anche in manga, One Piece. Eh, tre serie tv. Va bene, dai. Va bene, va bene. Gaetano, imita tre colpi con la spada. Cutling! 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 Non è stato due minuti da fuoco! Ho vinto! Invece tu, hai finito una partita, hai perso, devi fare tre facce da per dentro. L'ultima, l'ultima. La terza era quella quando sbrocca con le cose. Quella sbrocca! Dimmi tu i giochi a tavolo senza Meeple. San Wonders. Poi ci sta... Abyss. E... Merda. Eh, ciao! Eh, passata! Un uomo viene il merdo! Ah... Vuoi vincere? Merda! Ti piace di avere? Dimmi tre incandesi. Di chi a di? Eh, palla di fuoco, visibilità e... Arno drammatica. Dimmi tre capitoli di Resident Evil. Uno, due, tre. Ci sta! Ci sta! Non ci sarebbe mai arrivato. Gioco di ruolo. Tre colpi con i pugni che devi imitare. Come fosse se fossi umano. E poi... E poi... Ecco, ci ho tre colpi con i pugni che non ve le cazzo. Dritto. Sei bravi più di me? Eh, va, va, va! Tre serie tv che parlano di superpoderi o di supernaturale. Iro. Ehm... Van Helsing. E Super Iro. Super Iro! Super Iro! Super Iro! Ma che è? La nonchialanza in cui ha proprio del pulsante dopo! Super Iro esiste? No! Super Iro è sovernato! Dai, di super Iro è un film! Vabbè, secondo me sei buono. Adorio, adorio. C'è! Eccomi! Fammi tre espressioni... ...di quando spieghi un gioco da tavolo e quello spieghi sta al cellulare. ... C'è anche il lancio! C'è anche il lancio del cellulare! Ok, giusto! Ti senti forti a parlare una domanda più difficile? No! Vai, ma io ti diverti! Stai, giochi da tavolo e inizialo con la J! Ma che cazzo ne so! Eeeh... Eeeh... Vabbè... Ci ha una C, vabbè! Ci ha pure e poi... ...Just One... Eeeh... ...Jumai! Jumai! Dimmi tre nomi di board game che parlano di pandemia. Pandemic Lenacy... Pandemic... Pandemic... Eeeh... 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 Pandemic... Pandemic... Pandemic normale! Esatto! Facciamo passare, ha fatto 8 secondi! No! 8 secondi pure io ho 8 secondi! Eeeh! Eeeh! Quindi? Andiamo qua? Vincitrice o finalissima tra donne? Vuoi rendere la tu sa? No! Ma fai facoltà! Ma torni, vai! Eeeh! Eeeh! Vincitrice o finalissima torne! Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Me ne sono rimasti poche, però concentrati, amore! Oh, che per favore, caro! Tre giochi di ruolo! Chi è? DnD, Lex Arcana e... Vampire Masquerade! Ah, non sono staccate! Ma vabbè, sta andando bene, se non ti capita! Io sto leggendo, faccio... Tre classi di DnD! Platino, Bardo e acera! 23, 45, 25 secondi! Ma aspetta! Time out! Non ho capito il gioco! 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 Torno da te, perché prima ti ho eliminato una domanda, allora te erano dei chi più brutti! E allora ti dico, dimmi tre giochi belli! Questo è... Del Lasto Pass! Eh, non vuoi fare! Del Lasto Pass ha detto che è brutto! No, no, no! Bisogna il gioco! Eh, bisogna il gioco! Del Lasto Pass su uno! Del Last Pass su uno! Del Last Pass su due! 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 E' Erfi! Noi! Gli Erfi! Gli Erfi! Gli Erfi! Gli Erfi! Gli Erfi! E' giocato un Erfo penna all'emmerzo! Un mezzo! Va beh, scusa! A parte di un mondo! A parte di un mondo! A parte di un mondo! Vabbè, vabbè vabbè! Quindi il giocatore San... E' No, scusa! In Midami tre! Tre Erfi ci fa! Mi direi! Uno guarda! Uno guarda! Ah no! Questa è una parte, due è una parte, quale è il terzo? Per mia sigla, uno quando aveva partito non era nato Uno era più tendente verso sinistra, non avete visto quello verso destra E soprattutto... Qua ci vuole riparare così Tre casi editrici di videogiochi Allora... Naughty Dog 342 Indusys e... Nintendo Dimmi tre party game No... Just One Sibilo E Ok Skydier SIE L'ho detto Skydier 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 Ah non è party game Io direi che puoi finire qua, abbiamo il vincitore E' arrivata quasi alla fine Una la vita, una Qualcuno vuole rientrare? Ce l'ho un'altra mancia Vai Vai Mi sape ma tutti conto E' riuscivi a vincere? È fatta Vabbè vengono i master poker E ancora non mi viene Tre board game Solo giochi da carta Giochi di carta Seven Wonders Shaipur Tu però non devi suggerirlo Grazie Tre idee del modo di gioco di ruolo Pero, Colm e Love Tre autori di board game Daniele Tashimi Simone Luciani E William... no Non me lo ricordo! E' fatta! Bruno Catala We are the champ Questo primo speed quiz finisce qui Se mi è piaciuto Mettete un pollice Mettete un pollice Condividete Condividete il video Iscrivetevi se non siete iscritti E attivate la campanella per seguire le notifiche La campanella Per avere la campanella Per avere le notifiche Vi ricordiamo di seguire anche il video del venerdì di Steel Life E chi non lo fa è un pego il maiale E ci sta il peggio Ciao alla prossima! Ciao! 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 Ciao!